Partiamo per far capire ai telespettatori che ci ascoltano da quell'aggeggino che c'hai in mano la Roltec concepisce costruisce disegna realizza tutti i meccanismi improprio cioè voi non assemblate cose che vengono dall'estremo oriente ci puoi dire cosa è in mano ti dico subito cosa c'è in mano ma faccio una precisazione si lavora in team da soli non si va a nessun posto abbiamo creato una squadra posso dire oggi vincente con la quale ragioniamo a 360 gradi su quello che è il mercato che ci circonda quindi viene fuori questo prodotto qui interamente realizzato negli stabilimenti di Martelletto tutta la componentistica è progettata e realizzata all'interno dell'azienda e fondamentalmente quello che dicevo abbiamo una tapparella quindi tutto quello che si avvolge all'interno di un'asse e quando tutta la tapparella è giù diventa una persiana a lamello orientabili regolabile da 0 a 110 gradi in qualunque posizione intermedia possiamo quindi dire che ogni singolo congegno ogni singolo particolare di questo di questo aggeggio è realizzato al vostro interno partendo proprio dalle materie prime cioè dalle palline di plastica dal metallo realizziamo tutto all'interno della dello stabilimento quindi dalla progettazione degli stampi ai prototipi alla produzione in serie grazie a tutti Grazie a tutti.